mmm ti affermo sta fermo Dio ti ammazzo lui ti ammazzo Dio e via ahahah ahah no sono muoah mh meno male 1 2 ahah ffff Cazzito ti ammazzo ti ammazzo ti ammazzo ma ma guarda quanto l'hai fatta male non c'era bene la mano non c'era bene la mano non c'era bene la mano non c'è non c'è non c'è no mi metto sneaky che passavo sotto le porte mi sono caccato sotto di a parte mi sto ribruciando la porta di casa Ma forse non so se era lui Mi ha tirato un po' di freccia A quanto pare era il proprietario Oddio adesso ho 3,4 e 2 Cosa succede? Sono morto E' un roleplay questo C'è anche la base adesso Vabbè andiamo Abbiamo visto di peggio Tipo dove abbiamo costruito l'ultima volta sulla spiaggia Ma che cazzo era questo agguato Ma che cazzo era Forca diia Non ho capito Hanno fatto la sguazzo delle ocla Ma che cazzo era Vabbè Il movimento Hanno visto Ce l'ho Vai farla Cosa? 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 Ma c'è uno qua sotto Cosa? 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 Ma che cazzo? Cosa? Wat我? I got the AK, come get Show me your AK This is not an AK Get pranked, I got no AK Nice prank mate Thank you for the prank Why you throwing me rocks? Thank you Thank you for the fool This is not your food This is not your food This is not your food I searched only the horizontal It would be better FAAGAAAAAAA What are you doing? What problems have you, Falcon? Dio Bono! I'm c***ing in my hand It's the only way to go to your house Where can I go? Oh, yes, come on Let's go Oh, my God We're talking again Oh Dov'es? More or less than that Dov'es? Well, I don't know Ma, I'm ridiculous Di nuovo Ma, you're dead No, no Dov'es? Eh, well Vabbè, ma forse sono due! Sto arrivando, ho lasciato della roba in terra... Sì, sono due, sono due. Porco Dio, porco! È morto? Ma stavano in due! Porco Dio, porco! Porco Dio, porco! Porco Dio, porco! Porco Dio, porco! Abbiamo più! Dio, ti rigioco l'arco, Pau! Mi raccomando, sparate al rotone... No, non diamo, dai! Non lo fate, fate Non lo fate Ho fatto la bua No, era... No, anche io l'hai chiuso dentro Ho spaventato Vai, via, via Ma c'è stata aperta qua Infame di merda Oh, scusa Porco Dio Che male, cazzo Da post Eh mica, da... C'è pure incendia Ma come... E' attivati davanti ai coglioni No Una volta arrivano i razzi, eh Beh sì Entrate dentro, dentro la casina Aiuto Un'idea peggiore Vi ragionerà domenica Sto urlando Ma dov'è? Ma io sto cacciando con un semi-automatico Ma perché mi sei portato a K? Perché è scemo Sto pensando che... Ah Ho visto smontare gli pezzi C'è il fuoco C'è il fuoco? E c'ha 300 secondi di cooldown Cosa c'è? Fuori è la tempesta di K? Cazzo Le nostre zucche Sì sì, c'è proprio niente Razzi, 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 razzi Cazzo Mi dispiace ho dovuto chiutere Oh Cristo, ha aperto Oh shit Stava venendo giù casa Abbiamo underestimated the problem Eh, io come salgo sopra, Dexino? Sarà da casa tua Vabbè, ecco qua come ci entro sopra Sono morto Sto bruciando Sto bruciando Sto bruciando Sto bruciando Merda Ma sta perdendo un fuoco Non mi fa manco più respurna nei lenti Sto su un fallimento Sto su un f tempo Sto bruciando Sto 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 e adesso sto andando sneaky piti a vedere dove è il negro yo buddy oh s*** Oh! Press F! Yeah man, I cannot get out of the helicopter bro! I'm sorry man! Press F, I'm sorry! Fuck! Tu non hai idea a far cosa ho appena assistito! Ah, ci sono altri 3T... Hanno rotto l'airdrop, Dexino! No! Dexino, hanno rotto l'airdrop! Che vuol dire che l'hanno rotto? Il paracadute... ...e l'airdrop ha cominciato a girare su se stesso! Dio porco! No, me l'ha rubata sotto gli occhi! Però ha anche 5 siringhe! Cazzo! Stanno scappando? Siiii! Sono due, però! Uno l'ho preso! Eeeeeee! La mailgun! Ma stiamo scherzando! Ma vaffanculo! Ma stiamo veramente scherzando la nail gun? Ma va a cagare! Ma te vuoi rientrare in questa porta? Sì, intanto non ci tira razzi esplosivi, se solo Falcon c'ha l'autorizzazione. Oh, rotore! Spara al rotore! Però ora si è sparato alle sparre direttamente. Grazie! Sono quelli incendiari! Sì, si è smontata la torre! Non sono più quelli incendiari, ma che cazzo? Ma perché faccio la gym? Ma che cazzo finta! Oh, sta torre qua la faccio decadere! Si è smontata proprio! Oh, neighbors! Oh no! Oh! E' un altro video! E' un altro video! Ciao! E' un altro video!